Lui da un anno mi suona il piano forte, veramente come dicevo sono tutti valentosi, un momento perché è l'unico piano che mi suona cosa, s'assofono il piano forte, quindi chiaramente l'ultima esibizione dell'attentrata a Gelo è che un bambino ci potrebbe essere, sicuramente non ci sarà, ma se casomai ci fosse, un piccolo sbaglio, Mario continuerà a suonare, vero Mario, non ti preoccupa di niente, facciamo un applauso a Mario. Grazie. 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 Grazie.